L'esperienza della crisi è quella del rapporto tra imprese e banche. E' ciò che potrà portare nel rinnovato consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Modena, eletto per i prossimi tre anni dai soci della banca. In cinque anni ho vissuto delle esperienze aziendali molto complicate, molto difficili, ho acquisito, io la chiamo, la sofferenza e la notte triste di molti imprenditori. Un'attenzione alla sofferenza e al tema del lavoro che spetta alla banca approfondire. In questo momento il Paese è in difficoltà. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna, per la valenza che ha nei territori, per il sistema di occupazione, per l'economia che sottintende, è un punto cardine su cui noi dobbiamo fare riferimento. Con un occhio di riguardo per il credito alle imprese che hanno buone idee per il futuro del Paese. Non potrà certamente dare credito a chi non ha merito di credito, ma naturalmente guarderà con un occhio benevolo chi ha questo merito o ha una visione strategica del proprio futuro che può essere coincisa con una buona economia. Grazie. 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 Grazie.